Pari Icky Charlie SM, Gianpaolo Minucci, 2.46, Iago D'Alfa, Enrico Belei, 5.80, Imi Ranz, Gaetano Di Nardo. Queste le quote di questa prima del lungo pomeriggio di Trotto, che culminerà con la corsa Tris Nazionale, premio Evita Brolin. Stacco del mezzo meccanico, Iosi Liceo. E' attaccata all'esterno da Icky Charlie SM, che passa al comando, fio di zucchero M del team Mondial Sport. E' pressato a largo da Ida Ivelta, poi Iosi Liceo. Iabo. Impact Wise AS. 13,2 i primi 200 metri. Con Gianpaolo Minucci e il suo Icky Charlie SM a menare le danze, 427.1, 13.9 di seconda frazione. Icky Charlie, Ida Ivelta, Iosi Liceo, Impact Wise AS, Iabo, Imi Ranz, Ivo Rieprens, Iago D'Alfa, Eda Chiudere, Iuri Hanz, 43.6, 600. Con una terza frazione più tranquilla in 16.5. I cavalli, Iosi, vanno ad affrontare la penultima piegata, con il favorito in vantaggio. In seconda posizione Francesca Croce con Ida Ivelta. A largo Impact Wise AS, metà corsa in poco meno di un minuto. Si va da 1.15 con un 16 di frazione. A largo muove Enrico Bellei con Iago D'Alfa. Si giunge al chilometro che va via in 1.15.1. 15.2 di frazione, Iago D'Alfa a largo. Anticipato da Imi Ranz, i due piombano su Icky Charlie. Lotta tra i tre più attesi a traguardo ancora molto lontano. Poi Ida Ivelta, Iosi Liceo. Cavalli che affrontano la piegata. Gli ultimi 400 di corsa con Icky Charlie che riparte all'interno a Imi Ranz. Ripiega in scia quest'ultimo Iago D'Alfa. In corda Ida Ivelta, poi Iosi Liceo e Iuri Hanz. Si entra in dirittura di arrivo con Icky Charlie che ha di nuovo una di vantaggio nei confronti di Imi Ranz che ritorna la carica all'esterno. Icky Charlie in vantaggio. Imi Ranz che tende a passare. Lotta aperta tra i due con Imi Ranz che sta passando su Icky Charlie. Imi Ranz che è passato. Gaetano Di Nardo che viene a aprire il pomeriggio. Secondo Icky Charlie. Terzo Ida Ivelta. Due, cinque e poi il sei.